Un tavolo nazionale per il futuro di ABB e FIMER. La regione toscana sostiene infatti i sindacati di categoria FIOM, FIM e Wilma di Arezzo nel richiedere un incontro urgente al Ministero dello Sviluppo Economico per sbloccare la delicata vicenda delle due aziende valdarnesi che complessivamente occupano circa mille addetti tra diretti e indiretti. Al centro del tavolo nazionale richiesto dalla regione c'è il futuro delle due società, le sorti delle aziende sono infatti strettamente collegate. Il gruppo FIMER si è insediato recentemente nello stabilimento di Terra Nuova acquisendo il comparto degli invertitor fotovoltaici da ABB. Quest'ultima continuerà invece ad occuparsi del settore delle ricariche delle batterie per auto elettriche ed ha annunciato il trasferimento nell'area industriale di San Giovanni in zona Santa Andrea, settori industriali quelli curati dalle due imprese considerati strategici. Ma per FIMER-SPA in particolare si evidenziano molte incertezze sull'attuale andamento aziendale e sulle prospettive future, sottolinea nella lettera inviata al Governo per l'apertura del tavolo nazionale Gianfranco Simoncini, consigliere del presidente della regione Enrico Rossi. Le vicende delle due società sono da tempo all'attenzione della regione per l'assoluta rilevanza dei casi aziendali sia in termini di numero di occupati coinvolti sia per la strategicità del comparto in cui si inseriscono i progetti industriali. La lettera si conclude ribadendo l'urgenza di attivazione del Ministero. La regione infine da parte sua si è resa disponibile per qualsiasi approfondimento e interlocuzione.